Sono Riccardo Roveda, sono titolare di Strider Italia da due anni e collaboriamo oramai per il secondo anno con Cosmobike per questa attività per i bambini e anche per i disabili. Qua all'interno della fiera, abbiamo un'area per i bambini, abbiamo anche una pump track dove i ragazzini più grandi possono anche sperimentare la tecnica di guida di una bicicletta nella pump track. Abbiamo delle biciclette da 16 pollici e da 20 pollici apposta per loro. Abbiamo avuto una buona presenza di clienti, soprattutto di nuovi clienti e poi ieri abbiamo avuto un evento importante che è stata la giornata dedicata ai bambini. Abbiamo avuto ospiti nella nostra Strider Zone, i bambini di un asilo di Verona con un seguito di insegnanti con cui abbiamo fatto una bellissima esperienza.